Domani si svolgerà un importante appuntamento nella vostra sede? Sì, domani alle 18 avremo Daniele Pesco che è un senatore che fa parte della Commissione Bilancio, veramente il presidente della Commissione Bilancio ed è conosciuto come il padre del reddito di cittadinanza perché lui che l'ha ideato insieme ai colleghi lo ha messo a punto. Sarà accompagnato dagli altri due parlamentari del Movimento 5 Stelle di Fano, quindi Rossella Cotto e Roberto Rossini e secondo noi è un importantissimo appuntamento a cui invitiamo non solo i cittadini ma anche gli operatori perché si parlerà di queste due riforme sociali importantissime che sono reddito di cittadinanza e quota 100 e che sono appunto veramente importanti perché in questo frangente si darà la possibilità di uscire dalla crisi economica ben 5 milioni di famiglie in tutta Italia per quanto riguarda il reddito di cittadinanza e per quanto riguarda la quota 100 nei prossimi tre anni andranno in pensione finalmente un milione di nostri concittadini che se lo meritano, ecco superando la legge Fornero. E che ricaduta ha a livello provinciale? A livello provinciale ci sarà una ricaduta molto importante, noi abbiamo visionato i dati del centro studi di CNA, la CNA provinciale e si evince che appunto in provincia faranno domanda presumibilmente 26 mila persone stimate in 11 mila famiglie, quindi abbiamo calcolato che ci sarà un'iniezione di risorse nel nostro territorio che potrà andare dai 10 ai 20 milioni al mese, questi soldi verranno poi utilizzati, devono essere spesi attraverso una card e quindi il circolo vizioso economico sarà molto importante e avrà una portata significativa anche per il nostro territorio. Ecco domani si parlerà nel dettaglio di queste riforme, a che ora sarà l'appuntamento? L'appuntamento è alle 18, tutti potranno intervenire, fare domande soprattutto dal punto di vista magari tecnico su alcune questioni che non sono chiare perché spesso si parla di queste riforme, soprattutto della prima, come una riforma assistenziale invece sono previsti diversi incentivi soprattutto per le aziende e anche per chi avendo diritto al reddito di cittadinanza si vuole mettere anche in proprio.